Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise Per il basket femminile di serie A2 si gioca ancora domani Bologna a progresso, Savona, Campobasso, La Molisana, Forlì, Carispezia, Cestistica, Spezzina, Alghero, Mercede, Empoli, Civitanova, Faenza, Valdarno, Retail, Palermo, Andros, Cagliari, Umberti, De Orvieto, Carpini, Riposa, Roma, San Raffaele Torna in campo La Molisana, basket Campobasso, al Palavazzieri arriva il Forlì Parola d'ordine, riscatto Si torna in campo domani e con il favore del campo La Molisana, basket Campobasso, attende Forlì Le Emiliane arrivano al Palavazzieri dopo quattro sconfitte consecutive L'ultima arrivata nel recupero di mercoledì contro Spezzina per 64-55 Avversaria quindi che ha tutta la voglia di invertire la rotta Dal canto loro anche di Gregorio e compagnie hanno il dente avvelenato Soprattutto dopo la sconfitta di sabato scorso contro l'Umbertide K.O. arrivato dopo una brutta prestazione Lo staff tecnico Rosso Blu composto da coach Sabatelli e suoi assistant Filipponio e Anzini In questa settimana hanno lavorato duramente sia sotto il punto di vista tecnico ma anche motivazionale Il regolamento parla chiaro Al termine della prima fase la prima squadra di ogni girone viene promossa in Serie A 1 Le otto squadre classificate dal secondo al nono posto di ogni girone sono ammesse play-off promozione Che designeranno la squadra ammessa lo spareggio promozione per la Serie A 1 Ogni turno play-off si disputa in gara unica in casa della miglior classificata al termine della stagione regolare Le due squadre vincitrici dei play-off disputeranno uno spareggio in gara unica La molisana basket campo basso oggi rientra nel pool delle otto squadre ammesse alla post-season promozione Deve e può difendere con i denti il suo piazzamento Nonostante la giovane età del roster molisano, Ciavarella e K.O. hanno dimostrato di potersela giocare con tutte Più con le big che con le dirette concorrenti In casa Fiori d'Acciaio si lavora gara dopo gara Adesso Tessa Forlì, domani al Palavazziera alle 18.30 Arbitri, Marino Caldarola di Ruvo di Puglia e Danilo Lucarella di Taranto Sulla sirena di la molisana basket campo basso Forlì però bisognerà già pensare al recupero Sempre interno di mercoledì contro Bologna Basket maschile di serie B, ultima chiamata salvezza per il Globo Isernia Domenica scontro diretto in casa della Battipagliese Molisani hanno l'obbligo di vincere Il Venafro domenica ospita il Catanzano Basket in carrozzina di serie B Domani alle 17 la Fly Sportina il Molise Ospita la capolista Rieti Calcio giovanile al via il torneo delle regioni Ospitato quest'anno dalla regione Abruzzo In campo le selezioni juniores allieve giovanissimi Il Molise affronterà nell'ordine Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna Il Molise è pronto con le sue rappresentative A prendere parte al 57esimo torneo delle regioni Organizzato quest'anno dal Comitato Abruzzo Scenderanno in campo le rappresentative juniores Allievi giovanissimi e calcio femminile 1500 atleti tra calciatori e calciatrici Dai 14 ai 22 anni difenderanno i colori Del proprio comitato di appartenenza Calcolando anche gli staff tecnici e dirigenziali Nonché i vari collaboratori ed il settore arbitrale Ben 2200 persone parteciperanno in maniera diretta all'evento Il Molise è stato inserito nel girone C Con il Piemonte, la Valle d'Aosta, il Veneto E l'Emilia Romagna, regioni di grande rilevanza calcistica Domani al via la prima gara della fase a Gironi Prima avversaria il Piemonte In campo alle 16 a Silvi La juniores di Marco Maestripieri I giovanissimi e gli allievi giocheranno a Francavilla a mare Alle 10 spazio ai giovanissimi di mister Carlo Oriente A seguire alle 11.30 la categoria allievi affidata ad Enrico Caruso Domenica bisognerà affrontare il Veneto E lunedì l'Emilia Romagna Le prime due classificate della fase a Gironi approderanno ai quarti Che sono previsti per mercoledì 28 Semifinali il giorno seguente con finalissima venerdì 30 marzo Nel complesso si giocheranno gare in tutte e quattro le province abruzzesi Con una prevalenza per quanto riguarda il territorio terramano e pescarese Gli impianti scelti sono sia in erba artificiale sia in erba naturale Un'occasione importante di crescita sportiva ma anche sociale Per i tanti ragazzi che saranno i veri protagonisti del torneo delle regioni L'occasione per mettersi in mostra L'occasione per confrontarsi con realtà diverse L'occasione per testimoniare l'ottimo lavoro che le società sportive Stanno svolgendo investendo sempre di più sul settore giovanile In bocca al lupo al Molise Calcio di Serie D, squadre al completo per Agnone e Campopasso Domenica a Selvapiana arriva il San Marino Al Civitelle ospite la Vastese Il campionato di Serie D da domenica entra ufficialmente nel vivo Nel giro di qualche giorno da domenica prossima appunto fino a giovedì Si consumeranno due giornate che potrebbero aggiungere considerazioni importanti alla classifica Inutile dire che le battute a vuoto per il campo basso devono essere ufficialmente terminate Se ancora si vuole acciuffare un treno che sta sfuggendo Cioè quello che conduce al quinto posto Contro il San Marino attenzione alta anche oltre la norma I san marinesi hanno totalizzato infatti ben 27 dei 39 punti effettivi fuori casa Praticamente il 70% Il Campobasso perde il portiere titolare Landi per due giornate causa squalifica Spazio al classe 99 Riccio Sarà indispensabile lottare contro il tempo per avere in rosa Augustus Cargbo Tornato dal torneo di Viareggio Foglia Manzillo ha solo due punte a disposizione Cioè proprio Augustus e Balistreri Con la soluzione di emergenza che potrebbe essere rappresentata da Varsi nel ruolo di mezza punta La consolazione tutt'altro che magra è il ritorno proprio di Varsi e Capozzi Dopo quasi un mese di squalifica scontata Due scelte in più per Foglia Manzillo Il che non guasta mai A proposito di Capozzi buone notizie sulle sue condizioni di salute Il difensore ha saltato un allenamento ma l'essito degli accertamenti non ha riscontrato nulla di grave Capozzi ci sarà contro il San Marino La società Rosso Blu ha voluto lanciare messaggi positivi alla vigilia di questa partita Nel comunicato emesso ieri i vertici del Campobasso hanno rimarcato la serietà e l'importanza di un progetto pluriennale È tornata in auge la questione ripescaggio spesso palesata in più di un incontro pubblico da parte dei dirigenti del Campobasso La società stessa ha ribadito la volontà di arrivare quinti a tutti i costi per provare a battere la pista del ripescaggio in Lega Pro Da questo punto di vista la gara interna di domenica può rivestire dunque un'importanza speciale L'Agnone è proiettata alla sfida interna contro una vastese che deve ancora sudare per guadagnarsi la certezza di un posto fra i playoff Intanto giusto anche dare un'occhiata al calendario degli altomolisani Dopo la vastese a Granata toccherà giovedì la trasferta a Pineto Dopo le festività pasquali ad Agnone scenderà il Pesaro Trasferta importante a Iesi Altro spareggio play out in casa contro il Monticelli Poi trasferta sul campo del Nero Stellati alla penultima e ultima giornata al Civitelle contro la Sangiustese A quota 30, quella appena toccata dall'Olimpia, qualche piccolo calcolo potrebbe essere fatto Poniamo la quota salvezza ipotetica a 40 Ecco che servirebbero per la felicità dei tifosi Granata altre tre vittorie ed un pareggio Insomma c'è da correre e sudare a cominciare da domenica quando in Alto Molise arriva la vastese Un vero derby non può essere considerato ma certamente una gara sentita da entrambe le parti Anche per la scarsa distanza che separa proprio Agnone da Vasto Giudo, grande soddisfazione per la Champions Sport Team di Isernia Gli atleti Maria e Luigi Centracchio premiati dal Comune di Isernia Dopo tanto lavoro, tanto impegno, questo è anche un bel momento È stato un momento bellissimo perché diciamo le parole che hanno rivolto alla mia persona Sono state veramente graziose e io sono grato di questa considerazione che hanno della nostra scuola Del Giudo qui a Isernia e aver riconosciuto ai due ragazzi questo merito Per noi è un momento veramente di grande felicità Io ho parlato con loro, a parte la passione per lo sport, però sono delle persone mature Perché questo sport non è tutto divertimento, è anche rinunzi, è anche sacrificio Sì, indubbiamente quando uno ha un sogno deve anche mettere da parte alcune cose Quindi i sogni si raggiungono solo attraverso la dedizione, la passione, le rinunce E quindi il sogno quando si raggiunge poi è ancora più bello Qual è la magia di questo sport? Ma vedi, la magia di questo sport sta nella caduta secondo me Perché i giovani, i ragazzi in primis imparano a cadere Chi cade deve sapere rialzarsi e loro si rialzano ogni volta Quindi ogni sconfitta che un ragazzo ha non la vede come una sconfitta Ma la vede come un punto di partenza E questo è fondamentale perché poi il rispetto, l'educazione, il dedicarsi quotidianamente al lavoro Porta a questi ragazzi a una formazione veramente da uomini Signora, voi siete una squadra come famiglia? Ma cerchiamo comunque di dare tutto il supporto necessario ai ragazzi Perché allenandosi così tanto, avendo così tanti impegni La scuola anche Cerchiamo di dargli tutto quello di cui hanno bisogno Quindi supportarli quando si va fuori nelle trasferte Supportarli a casa Cerchiamo di stargli vicino in ogni modo Pernardo, dove arriveranno questi ragazzi? Il sogno di ogni atleta è l'Olimpo L'Olimpiadi Maria ci ha provato il quadri l'anno scorso Purtroppo per alcune cose non è riuscita Ma ci è andata vicinissima Riparte quest'anno Ma la cosa più bella che ci riempie di orgoglio, di felicità È che Luigi due settimane fa è stato chiamato a Roma nel progetto Tokyo 2020 Ed è il ragazzo più piccolo del gruppo prescelto Quindi potrebbe darsi che già da quest'anno o dall'anno prossimo Gli facciano fare perché non è che si va perché vuoi andare alle Olimpiadi Si va perché deve avere raggiunto dei punteggi Attraverso delle gare importanti E quindi solo la nazionale questo gli consente di fare queste gare Se hanno scelto Luigi e lo faranno fare Questo non lo so Però è nelle loro intenzioni Poi sta Luigi se riesce a fare i punteggi per andare a Tokyo Saremo felicissimi Magari due atleti Uno maschile e uno femminile alle Olimpiadi Penso che saremo sulle nuvole Pallavolo maschile di Serie C Domani in campo per gara 2 della griglia retrocessione La Labor Vetro Volley Campo Basso Ospite del Chieti con primo servizio alle 18 Calcio a 5 di Serie B Sosta di campionato per dare spazio alla Coppa Italia Chaminade e CLN Cus Molise Recuperano le energie in vista delle ultime due gare stagionali Sosta nel torneo cadetto di Futsal Due giornate dalla fine della regular season Due settimane di riposo per preparare al meglio la chiusura stagionale Domani prima sosta per permettere alle squadre qualificate di preparare nel migliore dei modi La Final 8 in programma dal 29 al 31 marzo a Padova A proposito sarà il giovinazzo a rappresentare il girone F nella pole per la vittoria della Coppa Italia Poi sabato santo altro turno di riposo per le compagini di Serie B Occasione utile per ritemperare le forze Chaminade e CLN Cus Molise a lavoro con l'obiettivo playoff a portata di mano Il successo a Montesilvano contro l'ultima della classe ha permesso ai ragazzi di Mister Pizzuto Di accorciare sul terzo posto Ora a meno 3 dal sagittario Pratola Ma soprattutto allungare a 5 le distanze dalla sesta piazza Un vantaggio importantissimo quello di Rosso Blu 5 punti da amministrare al meglio nelle ultime due gare In Soldoni basta un successo alla Chaminade Per avere la matematica degli spareggi promozione Un traguardo che la società del presidente Scarnata merita Non solo da un punto di vista organizzativo, societario Ma anche in riferimento al campo Con Pablo e compagni che stabilmente hanno veleggiato tra la terza e la quarta piazza Da inizio stagione Ruvo in trasferta e derby Queste le ultime due fatiche per i Campobassani Due match non semplici partendo proprio dalla sfida in trasferta con i Pugliesi In gran forma dopo aver spugnato Canosa Sulle ali dell'entusiasmo il CLN Cus Molise Inaspettato il percorso dei ragazzi di San Gennario Se torniamo al mese di dicembre dopo la sconfitta nel derby L'obiettivo playoff sembrava praticamente impossibile Invece la squadra si è compattata Perdendo anche qualche elemento Ed oggi è al quinto posto Dopo un girone di ritorno entusiasmante Il successo sofferto contro il Fuzz all'Altamura Sabato scorso ha messo in luce ancora una volta il talento cristallino di Matteo Sbarichello Una tripletta fantastica dell'asso brasiliano per avere la meglio sui Pugliesi Scesi in campo con il coltello tra i denti Il classe 95 è diventato il trascinatore assoluto di un team che lavora al massimo Per sfiancare gli avversari sotto un punto di vista fisico Alla ripresa altro match al Pala Unimol Con il Capurso e poi come detto chiusura al Pala Selvapiana nella Stracittadina Si gioca regolarmente invece nei tornei regionali di C1 e C2 Calcio a 5 e serie C1 per la ventiduesima giornata Fuzz al Montenero, Esernia Fuzz al Chemarin Fossaltese Agnone, Arcadia Termoli, Saracena Fuzz al Rial Venafro Virtus Castelpagano, Cerce Maggiore, Virtus Estese e Mirabello Calcio Calcio a 5 e serie C2 Scendiamo nella ventesima giornata Castel del Giudice, Fuzz al Collia Volturno Roccaravindola, Vinchiaturo, Montagano Petrella Cassiopea, Montes Pietrafuzzal Riccia, Montorione Frentani, Sestese e Frosolone Calcio regionale posticipata tutta a sabato 31 L'undicesima giornata del torneo d'eccellenza In promozione regolarmente in campo questo weekend Domani c'è un solo anticipo, quello tra Matese e Termoli 2016 Alle 15 arbitra Corrado Ferrara di Isernia Il Baranello domenica è impegnato nella trasferta di Ururi Massimiliano Venditti, giocatore del Baranello Migliore in campo dovrai esserlo anche il prossimo match con l'Ururi Ti ringrazio, ogni partita uno deve cercare di mostrare Non è solo una partita che uno gioca bene e dimostra qualcosa Bisogna dimostrarlo in tutte le partite Quindi mi tocca scendere in campo con massima umiltà Insieme al gruppo e cercare di fare una grande partita a Ururi Che sappiamo che è la squadra più in forma del campionato Massimiliano, da come siete partiti in questo campionato a come siete arrivati? Siamo partiti male, poi abbiamo avuto una fase di ripresa E poi un'altra volta abbiamo avuto un calo Ora pare che ci siamo ripresi Troppi alti e bassi Quando fai troppi alti e bassi non ti porta ad avere una classifica da playoff Questo è mancato, altrimenti credo che staremmo parlando di un'altra classifica Vi dovete aggrappare solo alla salvezza ormai? No, credo che ormai la salvezza si sia aggiunta Fare i playoff sarebbe utopia Perché i punti sono tanti L'Ururi io credo che stia facendo un campionato veramente pazzesco E possa aspirare anche a qualche posizione in più Antonio Tamburro, calciatore del Baranello 3-0, avete fermato il Ferrazzano Tre punti meritati sul campo di casa Che vi portano a puntellare la zona salvezza Sì, una partita abbastanza bella Soprattutto per un forte risultato di 3-0 E appunto abbiamo ottenuto il nostro primo obiettivo Che è quello della salvezza Adesso ci aspettano ulteriori partite Per andare più avanti con l'obiettivo dei playoff Prossimo match con chi lo avrete E come vi preparerete? Il nostro prossimo match è con l'Ururi Che è uno scontro diretto E ci impegneremo al massimo negli allenamenti Per dare il massimo successivamente domenica E sperando che il risultato sia dalla nostra parte Alla ricerca di punti per una salvezza diretta L'FC Molise domenica a Sant'Elia a Pianisi Antonio Cioffi dell'FC Molise Una salvezza che per l'appunto ancora non è blindata Ma questa squadra ha dimostrato Che questa posizione di classifica Le sta stretta soprattutto per quanto fatto vedere nel ritorno Sì sì Diciamo nel giro di donne abbiamo avuto una marcia in più Comunque era una squadra nuova Sapevamo a cosa andavamo incontro Abbiamo avuto pure alcune difficoltà in inizio campionato Però diciamo che come abbiamo detto anche con la società Il mister Questo è un punto di partenza per un nuovo percorso Che è partito quest'anno E a quanto pare dovrebbe continuare anche l'anno prossimo A livello personale invece qual è il tuo bilancio della stagione finora disputata? Diciamo che essendo la prima stagione in questa squadra Mi sento soddisfatto sia dal punto di vista personale Che nel rapporto con i compagni Ovviamente è normale come hai detto tu Anche personalmente sono cresciuto soprattutto nella seconda parte della stagione Piuttosto che nella prima Il Castelmauro gioca a Roseto per l'intera posta in palio Giuseppe Palazzo, il Castelmauro esce dalla sfida con il 4 torri chieuti Senza gol però un punto che fa classifica e morale Sì come no, giustamente è importantissimo andare a Roseto e fare un buon risultato Perché comunque le squadre dietro stanno comunque giocando bene Quindi bisogna stare sempre molto attenti Perché può essere sempre qualche sorpresa che è inaspettata Che magari è al nostro sfavore Dando uno sguardo alla tua stagione personale Sei soddisfatto di quello che hai fatto? Sì abbastanza L'importante è che vinciamo, che la squadra giocava bene Quello è l'importante Torna con il favore del campo il Rocca Sicura Che ospiterà il Casalnuovo Claudio Bonomi, allenatore del Rocca Sicura Arriva con una vittoria fondamentale nella corsa alla zona playoff Che si consolida ancora di più La squadra vista in questa circostanza È una squadra che poteva anche puntare ai vertici della classifica In generale cos'è che forse è mancato per quella corsa al vertice? Forse c'è mancato un po' di continuità Un po' di cattiveria Che purtroppo quella va sempre allenata Però sono felice di questo gruppo Sono felice di questi ragazzi Mi danno tante soddisfazioni giorno per giorno E questo è un onore per me allenare questa squadra Adesso si avvicina il finale di campionato Partite importanti che mancano alla fine Obiettivo chiaramente è quello della zona playoff Nella migliore posizione possibile Sono squadre importanti come l'Ururi Che certamente daranno del filo da torcere Sicuramente Penso che i playoff siano già dinlegnati Dobbiamo solo scegliere Tra virgolette Se noi Ururi, Vairano e Roseto Quale posizione a fine campionata andremo a occupare Il Chieuti si prepara ad ospitare la Cliternina Antonio Selvaggi Presidente del 4 Torri Chieuti Arriva a Castelmauro Un punto sicuramente importante In chiave obiettivo stagionale Sicuramente è un punto importante Per la classifica E anche per il morale Visto che il nostro obiettivo è la salvezza Ci dobbiamo giocare un po' tutte le partite Adesso per noi tutte le partite Sono quasi una finale Dando uno sguardo a quello che è stato Il cammino in generale della sua squadra Si ritiene soddisfatto Il nostro obiettivo era la salvezza Noi abbiamo organizzato Una squadra in dieci giorni Per affrontare il campionato di promozione Diciamo che tutto sommato Non si aspettavano questi grandi numeri Sappiamo che era difficile Infatti stiamo vedendo Che il campionato è un campionato impegnativo Per noi però Stiamo lottando per salvarci Lotta serrata Che vi vedrà coinvolti Fino all'ultima giornata Però avete gli uomini E le possibilità per mantenere la categoria Ma se giochiamo con lo spirito giusto Io penso che abbiamo tutte le possibilità Per fare una buona salvezza Questo campionato impegnativo Da premettere che noi comunque siamo Una società nata cinque anni fa Siamo un gruppo di amici Ci siamo ritrovati A fare il campionato promozione In un paesino di circa 1500 abitanti Anche perché sono quasi tutti Dei locali E' già un ottimo risultato Quello che stiamo facendo Seconda gara in due giorni E' seconda medaglia Per Paola Giorgetta L'atleta del Cus Molise Impegnata a Bardonecchia Nei giochi nazionali Invernali Special Olympics Ha messo in bacheca anche l'argento Nella categoria 22-29 anni Nella gara dei 50 metri Con le racchette da neve Una medaglia Se questa medaglia Segue quella d'oro Conquistata nella giornata precedente Nella gara dei 25 metri E che conferma le qualità dell'atleta Quello centrato da Paola Giorgetta E' un risultato straordinario Che la proietta nella maniera migliore Possibile Ad un altro appuntamento di prestigio I giochi nazionali estivi Special Olympics In programma a Montecatini Terme Dal 4 al 10 giugno prossimi Nella circostanza L'atleta del Cus Molise Sarà impegnata nel nuoto Campionato di prima categoria La Polisportiva Fortore Vuole tornare al successo Nella trasferta di Guardia Alfiera Pietro Barbato Dirigente della Polisportiva Fortore Una polisportiva che Ha meno 7 dalla prima Ha più 10 dalla terza Sì, non ci guardiamo le spalle Noi guardiamo avanti Ripeto, 7 punti Sembrano tanti Però andiamo a recuperare una partita Il nostro obiettivo è fare 27 punti Da qua alla fine Ce ne mancano 9 Quindi le vogliamo vincere tutte Poi Se il campo dirà cose diverse Accetteremo il perdetto del campo Playoff in vista Playoff che però non ammetteranno errori Come quelli con la partita di oggi Playoff in vista Mi ripeto I playoff sono qualcosa che faremo Se non vinceremo il campionato Noi il campionato lo vogliamo vincere L'Altilia Samnium Torna in casa Contro la Fiamma Larino Mauro Vitelli Altenatore dell'Altilia Samnium Solo Paca Una vittoria forse inaspettata In casa della seconda classificata Ma sicuramente meritata Considerando anche che la maggior parte Del secondo tempo L'avete sostenuto In inferiorità numerica Sì Bisogna fare un applauso ai ragazzi Per l'impegno profuso in questa partita Purtroppo noi Non tutte le partite sono uguali In quanto abbiamo dei problemi di rosa Spesso giochiamo con formazione di maneggiato Per quanto riguarda la partita Secondo me Si è deciso l'episodio Quell'autorete Ma poi in generale Anche condizionata dal vento Giustamente chi attacca Favori o sfavori Il vento comunque di condizione Perché il passaggio corto diventa lungo Il lungo diventa corto Quindi il problema rimane sempre Per chi gioca in attacco Secondo la mia opinione Bissero Tre punti meritati Dunque La prossima giornata Contro chi vi schierete La prossima giornata Giochiamo contro il Larino Che è una squadra Diciamo sempre pericolosa Anche se sta nelle parti basse Della classifica Però noi ce la giochiamo Noi siamo in una posizione intermedia Dovremmo stare quinto Sesto posto più o meno Quindi Siamo ritossi di playoff Playoff E queste cose qua Siamo una squadra di media Alta classifica Che comunque possiamo mettere In difficoltà chiunque Nuoto La piscina comunale di Riccione Ospiterà fino a mercoledì 28 I criteri a nazionali Invasca Da 25 metri L'H2O Sport Parteciperà alle gare Con quattro atleti qualificati Per le gare individuali Una per le gare femminili Tre per le maschili Per un totale di sei gare individuali La H2O Sport Sarà presente con sette atleti Che hanno ottenuto la qualificazione Quattro donne E quattro maschi Per un totale di 12 gare individuali La M2 Si è qualificata con tre nuotatori Una per le gare femminili E due per quelle maschili Torneo tre contro tre Nel girone della Liga Si difende il Getafe Tanto entusiasmo Per la squadra molisana di Madrid Davide Cirelli del Getafe La Tana del Molise Dunque insomma la stagione Sta andando bene Nonostante il pareggio con l'Atletico Sta andando bene Siamo imbattuti per ora Il pareggio di stasera non ci voleva Ecco è stata una gara Dove forse eravate convinti di aver vinto Siete andati sopra di tre E poi gli avversari sono venuti fuori Sono venuti fuori Complimenti a loro E siamo calati noi Inevitabilmente queste cose succedono Ci può stare Ci può stare Però avete insomma l'obiettivo di chiudere Tra le prime posizioni L'obiettivo nostro è Tra le prime tre Se riusciamo tra le prime tre Il Real è forte La seconda sicuramente sarà il Barcellona Noi puntiamo tra terza e quarta Per lottare tra quelle posizioni lì Ecco vi state comunque divertendo Il torneo come lo giudichi? Il torneo è Dei tornei 3-3 che ho fatto Io personalmente questo qui è il più bello Perché dà i valori di amicizia e di sport Che sono quelli più importanti alla fine In questi sport amatoriali È la cosa più importante E anche il contorno con una serie di iniziative Il fantacalcio Le classifiche che abbiamo noi sotto le molise Insomma voglio dire c'è una copertura totale dell'evento Tutto il format è spettacolare Nel contesto E penso uno dei pochi A fare questo Fantacalcio? Fantacalcio io Personalmente non sono stato preso Però Della mia squadra Ho tre ragazzi Tre miei amici Che sono stati presi E noi cerchiamo di dare Delle gioie A chi li ha presi Bene è tutto per questa edizione Del nostro TG Sport Buon pomeriggio Buon pomeriggio